va bene ok, va bene bravo, è bene, sono contenta poi complimenti a tutte ok, ciao ciao ha vinto Sofia? qui sta andando bene, la gara più bella c'è adesso con le union c'è uno spettacolo allucinante bellissima abbastanza, non è pieno però ce n'è abbastanza di più che quando c'è la serie A sicuramente pronti? ok, ciao ciao